750 mila veicoli. Alle 15, conferenza stampa del ministro delle politiche agricole, Zaia, parlerà degli OGM dopo il via libera della Commissione europea alla coltivazione di una patata e di tre varietà di mais modificati geneticamente, un provvedimento al quale Zaia si è detto contrario. Il ministro ipotizza un referendum popolare.